L'obiettivo è quello di incentivare l'uso della bicicletta per diminuire l'utilizzo delle automobili a favore della mobilità sostenibile e per evitare che ci sia traffico e inquinamento nelle città. Oggi partiamo con questo servizio che portiamo in Puglia per la prima volta, che è un servizio di sharing presso i negozi. I nostri clienti potranno venire nelle nostre attività, in queste 60 attività che hanno diritto per il momento speriamo che aumentino, e prendere la bici, fare i servizi o fare lo shopping che devono fare nel borgo murattiano e riportare la bici al proprio negoziante di fiducia. Qui ci sono anche dei reshow, l'idea è quella di integrare tutte le iniziative a favore della mobilità sostenibile. Sì, abbiamo una serie di iniziative, abbiamo fatto già delle giornate con i reshow, speriamo per rientro dalle vacanze di avere un pacchetto più ampio di iniziative, tutte sulla mobilità sostenibile, per permettere ai clienti di spostarsi in massima tranquillità e anche senza spendere nessun soldo. Grazie. Grazie mille. Grazie.